Buongiorno 8 euro? Sì, ecco qua, 8 euro, già io l'ho già controllato Sì, e 10 centesimi Amore? Quale prendo? Cioccolato o vanilla? Ma prendile tutte e due, dai! Non si riesce ad andare avanti neanche con 1.700 euro 1.700 Allora, l'ho preso, l'ho preso la pasta, l'ho preso il pomodoro Non è che mi piango addosso, è che sono incazzato perché io ho tutto che avrei voluto prendere Un'altra domanda Sessanta centesimi L'importante non dare l'impressione del disagio Un'altra domanda Un'altra domanda Un'altra domanda Un'altra domanda Un'altra domanda